Carissimi amici ed amiche, bentrovati e benvenuti sul canale. Facciamo un passo avanti oggi. Nel caso di Alice Neri, proviamo a fare chiarezza ancora di più, almeno su quello che è il mio pensiero, non è che io possa fare chiarezza in senso oggettivo. Abbiamo chiarito che cosa innanzitutto? Che non c'è nessun atteggiamento preconcetto, quello sicuramente, e che tutti i personaggi devono delle spiegazioni. Il Galù deve spiegazioni delle cinque ore che dice di aver passato dalle cinque e un quarto, che sarebbe sceso dalla macchina, fino alle dieci e quindici, quando è stato immortalato a Concordia dalle telecamere stradali, Marco deve dare spiegazioni delle sue sette ore di silenzio, diciamo. Ma partiamo dal principale sospettato. perché io voglio sfatare tutti i dubbi quando si dice che si spendono troppe parole a favore di questo soggetto. Non è così. Lui è il principale sospettato e probabilmente l'autore del delitto. Però possiamo fare delle ipotesi ragionate per conoscere il suo ruolo, perché qui ci sono delle ipotesi che possono vederlo colpevole, colpevole in senso assoluto, colpevole con partecipazione, colpevole come killer, oppure innocente. Allora, se partiamo dalla prima ipotesi, cioè un guallullo che è innocente, e allora, di guallullo innocente, cosa si deve pensare? Che lui arrivi per caso, lì, allo Smart Cafe, dopo che ha fatto quella telefonata l'amica Tiziana, poi chiede casualmente il passaggio ad Alice, rimane con lei in auto fino alle 5 e 15. Alice lo fa scendere perché ha un appuntamento, probabilmente con il terzo uomo, oppure teme che qualcuno la sia seguendo, galore scende, poi ci spiegherà cosa ha fatto dalle 5 e 15 alle 10 e 15 quando è stata immostralata appunto a piedi, però certamente è poco probabile che possa essere stato dagli amici e poi lì due ore dopo. in questo caso che il galul fosse innocente però si dovrebbe supposire un ruolo attivo poi di chi? O del terzo uomo, della sua ossessione, qualcosa legato a lui, oppure un ruolo di Marco che noi non conosciamo che potrebbe spiegare il suo silenzio o di chi? Dell'altro indagato, del marito che per tanti motivi sembra fuori da ogni dubbio. Quindi vedete questa ipotesi di un galul privo di colpe non è un'ipotesi prevalente. Poi c'è la seconda ipotesi che vede il galul colpevole esclusivo da solo. E allora gli avvolgiamo il nastro lui arriva per caso sempre lì per caso casualmente vede Alice le chiede un passaggio sale in auto in quell'auto succede qualcosa di anomalo a un certo punto evidentemente un litigio qualcosa lui la uccide uccidendola potrebbe lasciarla là indubbiamente ma poi si ricorda di quel posto dove lui andava pure a pescare e va lì a darle fuoco e allora forse chissà come chissà dove va a prendere la benzina oppure per caso casualmente come una manna che scende dal cielo per lui trova quel bidone lì pieno di olio e il cadavere nel posto a bagagli si potrebbe pensare che sia stato a posto lì perché durante il tragitto nella remota ipotesi di essere fermato magari dalla polizia non non si vedesse che c'era un cadavere in auto quindi da fuoco da fuoco e poi non si sa dove va se va dagli amici forse ma poi qualcuno avrebbe dovuto accompagnarlo subito a concordia ciò che non è emerso è che spure questi amici non dicono di averlo accompagnato da qualche parte però questo è diciamo ciò che è capitato con un galul colpevole da solo da solo senza un particolare movente un movente diciamo di tipo occasionale non predatorio perché altrimenti non stava lì un'ora e mezza in macchina poi abbiamo il galul colpevole cioè che l'ha ammazzata sempre lui ma con dei complici questa secondo me è l'ipotesi più improbabile un'ipotesi remota il fatto che abbia avuto dei complici perché la presenza di complici dovrebbe presupposte inevitabilmente una conoscenza tra i galul e alice dovrebbe presupposte che lui non l'abbia incontrata casualmente e quindi che avesse con lui un appuntamento specifico si dovrebbe presupposte uno scontro con alice magari un ricatto tipo revenge porn queste cose qua allora qualcosa di organizzato per cui se ci fosse stato questa organizzazione si potrebbe supposire una premeditazione con il galul che fa il piano fa un piano per cui una volta fatti il piano ecco che chiama i complici che stanno lì in attesa evidentemente e quindi che hanno tutto pronto però questa è un'ipotesi che mi sembra diciamo di diciamo di fantascienza se vogliamo dirla tutta perché quel tipo di complicità le 4-5 della della notte diciamo è necessariamente una complicità di tipo organizzata non può essere una complicità estemporanea che chiama e dice io mi hai capitato qualcosa stiamo parlando di un orario molto particolare non è plausibile che senza aver organizzato già tutto ti succede un raptus o che sia in auto alle 4 e mezza 5 e con uno schioccale di dita chiami e in pochi minuti ci stanno amici che alle 4 e mezza alle 5 5 e mezza del mattino sono prontissimi immediatamente a venire a fare un piccolo favore cioè incendiare una macchina e un cadavere quindi nemmeno nemmeno un boss mafioso arriverebbe ad avere questa disponibilità immediata in quella notte inoltrata quindi questa ipotesi di lui colpevole con complici con complici quindi tutto programmato non è credibile a mio avviso c'è ancora l'ipotesi di Galù colpevole ancora una volta ma come killer cioè come incaricato praticamente un omicidio su commissione o la presenza di un mandante questa è l'ipotesi più suggestiva potrebbe essere e allora mettiamo per un momento che ci sia un mandante allora costrui gli indica che lei sta allo smart caffè alle tre di notte e quindi il Galù cosa fa prima diciamo in modo un po' pacchiano se lo vogliamo dire tutto telefona a Tiziana per costituirsi un alibi ben sapendo che che lei non probabilmente si sarebbe subito rifiutata di andare perché in quella telefonata lui le chiede un passaggio ma fa intendere a lei di essere appiedato non le dice solo la bici non fa riferimento alla bici e poi a quell'ora non pioveva quindi ecco che il fatto che per chi chiedere il passaggio poi quando c'è la bici potrebbe essere una sorta di copertura che si è fatto poi alle tre e trenta cosa avviene ma allora bisogna farsi qui delle domande Marco davvero non conosceva il Galù e davvero se ne va appena lo vede avvicinarsi alla macchina siamo sicuri di questo siamo sicuri che non c'entra in nulla oppure non c'entra nulla nemmeno il terzo uomo che sapeva anche lui che Alice era lì con Marco e più tardi probabilmente nella sua uscita alle 5.27 avrebbe dovuto vedere probabilmente tutti quei messaggi che ci diceva Marco di quella notte che diceva Alice di chi erano potevano potevano essere anche di questo terzo uomo allora questo Galul killer incaricato riesce a salire in macchina ora potrebbe quasi subito fare quello che deve fare ma probabilmente lui sa di avere tempo e quindi prova e riesce magari non so ad abusare o comunque a stare del tempo con la vittima ricordiamo che la macchina sta ferma un'ora alla fine quindi la uccide e la mette nel portabagagli ora una volta avesse nel portabagagli avrebbe terminato il suo compito la uccide e la mette nel portabagagli ma la porta in quel posto lì dove è stata ritrovata ecco quell'ultimo viaggio è significativo perché attenzione il gestore di quella zona nel cosiddetto gestore in un'intervista dice la tonica dell'olio qualche volta stava qui ma era vuota io l'avevo appena messa piena appena aveva appena messo messa piena ora un dubbio qua sorge ecco facendo l'avvocato del diavolo cioè se è stata fatta l'indagine per vedere se fosse usuale che questo gestore tenesse una tonica di olio piena se avveniva spesso questa cosa lì altrimenti è singolare che l'avesse messa piena da pochissimo perché il galul killer allora si suppone che dovesse sapere per andare lì proprio lì dovesse sapere di trovare lì e proprio lì la tonica di olio per poter dare fuoco o per alimentare quanto meglio dire il fuoco perché è vero che con un po' di benzina puoi dare fuoco più facilmente ma poi l'olio è importante per la certezza che le fiamme durino e quindi è ben strano questa cosa che il galul killer vada proprio lì quasi sapendo che c'è l'olio a disposizione una cosa molto sospetta poi il galul killer può essere anche perché per quella famosa telefonata in cui non si capisce bene dice alla moglie alla moglie dice facciamo un po' di soldi questa volta facciamo un po' di soldi che non si capisce a cosa si riferisca non credo che si riferisca al fatto che andava a lavorare facendo il solito mestiere lui è sempre mestiere per arranciare ma soprattutto diciamo il tinteggiatore quindi non credo che avesse avuto un mestiere particolarmente remunerativo quindi poteva essere riferito ai soldi presi da questa commissione da questo mandante e il mandante ragionante per ipotesi per questa ipotesi mandante chi poteva essere ovviamente astrattamente poteva essere Nicolás il marito che astrattamente aveva il movente ma è un'ipotesi che non sta in piedi perché io credo che lui ormai già fosse rassegnato ecco un po' al matrimonio che andava così non era una novità poi non aveva a disposizione altre automobili è stato accertato questo quindi anche la non disponibilità di uscita con nessun altro automobile se non la sua che è stata lì parte la bambina che dormiva il telefono che non si muove e che alle 6.30 lui poi fa da casa quelle telefonate sul telefono di Alice acceso ancora quindi anche per una ragione di opportunità non avrebbe avuto senso pure fare quelle telefonate se avesse avuto un ruolo quindi il mandante potrebbe essere Marco lo stesso Marco che se ne va in quel modo un po' così lasciando Alice con Galù non c'è anche qui nessun elemento oggettivo per ipotizzare una cosa del genere bisognerebbe solo immaginare ecco immaginare che ci fosse una conoscenza fra lui e Galù e che ci fosse dei gravi motivi ma ci fosse qualcosa di clamoroso fra lui ed Alice da poter postare attanto e perciò che sarebbe importante sapere conoscere il contenuto di tutto quel tempo passato insieme ecco perché poi l'alibi di essere andato via per carità lo tiene strano che sia poi letteralmente sparito strano che abbia cancellato le chat i contatti con Alice già dal giorno dopo di non aver disposto più alla famiglia a nessuno e questa è la stranezza poi il mandante chi può essere il terzo uomo è stato detto tanto su questo terzo uomo ma anche qui ovviamente precisiamo non c'è nessun elemento oggettivo per ipotizzare ciò diamo solo per ipotesi per suggestione diciamo perché a livello proprio di suggestione potrebbe essere l'ossessione le lettere d'amore ossessive i controlli i controlli e il fatto di comunque di stare sempre appresso a lei il giorno prima uscita 5.40 di mattina quel giorno 18 5.27 di mattina il post così clamoroso delle fiamme quelle 5.27 di mattina cosa doveva fare veramente prima di andare al lavoro poi la cancellazione di tutto anche lui come come Marco tutte le chat amicizie e tutto e in quella intervista rubata mi è rimasta impressa la parola che lui dice vabbè ho cancellato tutto tanto tanto è morta quindi come pure le contraddizioni della moglie di questo terzo uomo come abbiamo detto più volte che dice cose diverse di quello che avrebbero fatto il pomeriggio e la sera del 17 quindi abbiamo percorso diciamo queste ipotesi che vedono una possibilità di un Galul innocente e che sarebbe innocente qualcuno di questi abbiamo nominato deve avere delle colpe precise oppure lui colpevole colpevole da solo colpevole con complici oppure killer con la presenza di un mandante quindi fra questa alternativa una non solo è possibile ma è fattibile spero che sia illuminante anche la perizia le perizie successive che si faranno per dare qualche elemento di indirizzo in più perché è vero che Galul deve giustificare quelle cinque ore però degli elementi in più dovrebbero emergere perché così il quadro indiziario non è completo a me piace analizzare a livello oggettivo la problematica io ho visto pure oggi a ore 14 il senso unico e scontato su Galul che va e uccide lui senza che nessun altro sappia niente complice di niente fa tutto lui aggrappandosi un po' a quelle che sono state le motivazioni del riesame che giustamente ha confermato il carcere per il pericolo di fuga eccetera ma soprattutto aggrappandosi quasi alla certezza che lei non potesse avere a quell'ora poi un altro appuntamento quando ahimè ultimamente con l'uscita del terzo uomo alle 5.27 era pressoché certo invece che avesse un altro appuntamento perché se il giorno prima alle 5.40 si era visto con il terzo uomo si presuppone che quell'uscita così anticipata anche del 18 di novembre alle 5.27 fosse propedeutica diciamo all'incontro prima del lavoro quindi che avesse comunque che potesse avere un incontro da questi fatti che sono emersi recentemente non è per niente escluso anzi direi probabile però vedete alcune trasmissioni a ore 14 ad esempio non se ne facciano e vanno a senso unico senza porsi alcun altro tipo di domanda quindi anche per il fatto dell'impostazione sul navigatore di Ravarino poi cambiato con via vall'alta beh io ho una spiegazione me la sono data alternativa cioè che nel momento in cui Marco è voluto andare via per forza non si è voluto trattenere oltre allora lei visto che erano le 3 e mezza e doveva aspettare oltre 2 ore avrà pensato di comunque riavare fino a casa e stare lì un poco e poi uscire di nuovo e non stare oltre 2 ore ferma 2 ore ferma lì in Panscheggio potrebbe essere un'alternativa invece alternative in alcune trasmissioni non se ne danno niente dubbi sulla dinamica esistono dubbi sulle responsabilità esistono però come vi ho spiegato oggi vedete mi sono orientato molto più sulla responsabilità del Galù che nessuno difende anzi vi ho fatto vedere oggi come la sua responsabilità oggi con questi ragionamenti è più che probabile ma non è detta che sia esclusiva e che sia senza motivazione cioè non ci sono ancora gli elementi per poter pensare che egli per caso giunga lì per caso salga sulla macchina per caso senza che la conosca così senza alcun movente sta con l'epo la uccide e poi sente la necessità senza nessun motivo di andare in quel posto e casualmente casualmente di trovare una tannica piena di olio appena messo che serve subito per dare fuoco e se ne va cioè una forma di follia assoluta non è impossibile ma io ho qualche domanda continuo a farmela grazie amici miei alla prossima un abbraccio a tutti quanti voi